Buongiorno, ti citrerei in Toscana, se c'è molto entusiasmo, uno si vede, non si fa questa voglia di Fiorentina, come sarà questa Fiorentina 2013-2014, il nome non so se lo si può pronunciare a questo punto, però fino a Super Mario ci possiamo arrivare, come vanno le cose? Il mio direttore è preparatissimo e quindi lascio a lui la parola. Allora, prima che rispondo alle vostre domande voglio salutare Gianfranco Deutino da parte di tutto lo staff tecnico, iniziando da me, passando per Edoardo Masià, dall'allenatore a tutta la squadra che ci ha accompagnato, sono un grande professionista e lo salutiamo con calore. E poi dopo voglio fare personalmente in bocca al lupo ad Elena, ad Elena Turra, che prenderà il posto di Deutino e ci seguirà quotidianamente. Elena la conosco bene, so quello che vale, so quello che può dare a questa società, perciò gli si può soltanto augurare un grande in bocca al lupo. Arriviamo subito al suolo perché tanto così è quello che vi aspettate. Secondo me in questo periodo si è parlato in maniera eccessiva di una situazione che sicuramente ci interessa, che è quella di Mario Gomez, è un calciatore fortissimo, ci mancherebbe altro che non ci interessasse, però è stata fatta delle situazioni incredibili, viaggi a Monaco, visite mediche a Firenze, il giocatore sta per arrivare, intermediari che alla Fiorentina non servono, tutte queste belle cose. Anche se smentite personalmente da me, nel senso che qui sentivo, gli dicevo che non era vero, però qualcuno non ci ha creduto. E lo ribadiamo. La situazione di Mario Gomez è facilissima da descrivere. In questo momento non ci sono presupposti per Mario Gomez, nel senso che è un calciatore fortissimo che costa tanti soldi e anche se la Fiorentina è una società solida e forte, poi c'è sempre un perplay finanziario da seguire, nel senso che ci sono dei parametri economici che sono importanti e in questo momento questi parametri economici non ci sono. Penso di essere stato chiaro ed esaudiente. Io ho due domande. La prima per Razzandro Vempucci, esula dal mercato. Ho visto ieri a passare a nome dell'associazione Paraplegici raccontando insomma il spostamento fisico delle persone in carrozzina allo Stato. Volevo dire da parte nostra come era la situazione perché insomma loro dicono che ci sono stati altri ultimatum, dobbiamo spostarci, dall'altra parte c'è un problema relativo al prima. Allora non corrisponde davvero, però in questa società rispetto alla problematica dei portatori di handicap è stata sempre molto molto sensibile e da una rapida indagine fatta anche in altri stati d'Italia forse è quella più sensibile rispetto ad altri, quindi critiche da questo punto di vista naturalmente non le possiamo avere. Ovviamente i portatori di handicap ce ne sono tanti, di tanti generi e noi abbiamo comunque non solo accontentato ma anche reso più felici il 99% delle associazioni che raggruppano il 99% dei portatori di handicap. Naturalmente alcuni vengono un luogo, alcuni vengono spostati in un altro, non è che sia un spostamento di particolare agravio, anzi. Per cui è chiaro che l'unanimità è sempre difficile ottenerla in queste cose, però non vorrei che una minoranza tra l'altro che non trova terreno fertile nemmeno tra i loro colleghi associazioni di portatori di handicap possa poi essere assunta come colei che fa per forma critica che non esiste e quindi insomma mi dispiace ma a volte parlare dei portatori di handicap è anche difficile, ma se una persona dice una cosa non esatta o comunque non risponde alla verità, anche se è un portatore di handicap io mi sento di dirlo, altrimenti sarebbe veramente una discriminazione dargli sempre ragione per forza. Grazie. Grazie invece per il direttore Tradè. Per quanto riguarda la situazione di Gomez è stato molto chiaro, c'è un percorso di un percorso di finanziario da seguire. Per seguire questo percorso di finanziario quanti sono i giocatori che non rientrano in piano tecnico della Fiorentina e che voi dovrete in qualche modo, a prescindere da Gomez, cercare di sistemare sul mercato? Grazie. No, gli esuberi ne abbiamo parecchi in questo momento. Però il mercato è appena partito, perché è un mercato difficile perché non ci sono movimenti. Diciamo che in Italia l'unica squadra che veramente ha fatto mercato in questo momento è la Juventus e subito dopo la Fiorentina. Altre situazioni mi sembra di non vederle. Però i nostri esuberi sono tutti esuberi di calciatori che io ritengo bravi, perciò non sono preoccupato. È soltanto il tempo che poi porterà eventuali cessioni. Ecco tutto qua. Però voglio specificare una cosa in maniera proprio forte, perché tutto il tempo si dice, prima si vende gli ovdici, poi si compra un altro calciatore, tutto quello sia, non parlo soltanto di Gomez, ma si parla di obiettivi che la Fiorentina ha. Perché secondo me la Fiorentina già è fortemente competitiva in questo momento, perché la Fiorentina deve fare veramente poco per essere una squadra fortemente competitiva. Quello che riguarda un eventuale acquisto, la famiglia della valle non ci ha mai detto di non prenderlo in considerazione se prima non c'è una cessione, però deve essere un acquisto che ha dei parametri giusti. Ossia, se l'acquisto è un affare, bisogna farlo, ma se l'acquisto non è un affare, allora bisogna aspettare. Facilissimo, se non è che noi stiamo costruendo un puzzle sulle uscite, assolutamente. Siamo una società forte, siamo una società che ha dei parametri finanziari in linea, perciò siamo una società che è molto, molto serena. Salve direttore. Quindi quando lei dice che in questo momento non ci sono i presupposti, si riferisce soltanto al fatto che magari il Bayern chiede troppo, non che non è stato scelguto gli obiettivi. In questo momento non ci sono i parametri. Il nostro rapporto con il Bayern è un rapporto solido, è un buonissimo rapporto con l'Umenighe da parte del dottor Meccucci, da parte mia. perciò se loro logicamente hanno un calciatore che devono vendere e hanno delle esigenze economiche, noi le rispettiamo come noi abbiamo le nostre e loro hanno le loro. Poi faccio una domanda sugli AIC, volevo capire com'era la situazione, se pensavate comunque di portare il ritiro a parlare. Certo, ci mancherebbe che gli AIC e gli AIC ha un momento in maniera regolarissima, si avremmo modo di parlarci, ha espresso la volontà di parlare, di trovare una soluzione, vediamo se questa soluzione ci sarà. Semplice, se ci sono i parametri per rinnovare, bene, altrimenti si troverà una situazione diversa, sempre in linea con le esigenze sia del calciatore che della Fiorentina, in maniera molto corrente. Completo solo la domanda, è possibile che rimanga in scadenza oppure un rinnovo a Barca? Cioè, questo è prematuro parlarne, iniziamo a parlarci martedì o mercoledì e poi vedremo. Due cose velocissime, tanto grazie per la chiarezza. Mi sembra di capire, però magari mi sbaglio, che ci sono comunque delle alternative importanti a Mario Gomez perché la Fiorentina ha un indirizzo preciso sull'attaccante, questa è la prima domanda. E la seconda vorrei capire, se oltre alla Juventus, ad oggi nella sede di Alefanti sono arrivate richieste vere per Stefano Jovetic, grazie. Sulla seconda ti dico no, non sono arrivato a offrire. E sulla prima ti dico certo che abbiamo delle alternative, se no non faremo bene il nostro lavoro. Noi in ogni caso sappiamo di costruire una squadra che sia competitiva e cercheremo di farla migliore rispetto a quella dell'anno scorso. Questo non vuol dire che poi dopo i risultati devono essere per forza migliori di quelli dell'anno scorso, però noi saremo convinti di aver fatto in base alla nostra coscienza il lavoro migliore. Non ci scordiamo che già oggi abbiamo preso dei calciatori forti, perché Joachim è un calciatore molto forte. Siamo convinti già di aver messo qualcosa in più rispetto all'anno scorso. Questo è importante. Grazie.